Buongiorno, sono Eugenio Sartarelli di investimentinvincenti.it e tradingnavigator.it oggi voglio fare un'analisi ciclica orientata a una strategia in opzioni che è quello che io uso di più, cioè la strategia in opzioni fanno parte più di più, diciamo, due terzi almeno del mio trading in opzioni e soprattutto uso l'analisi ciclica perché l'analisi ciclica pesando i tempi consente, visto che il tempo nelle opzioni è molto importante, di ottimizzare delle operazioni in opzioni oggi è venerdì primo marzo, sono le ore 10.35, così capite come siamo messi sul mercato questo è l'euro stocks con i 4 cicli che solitamente analizzo, anzi prima vediamo l'euro stocks qui dati in real time a un'ora, sul minimo del 16 novembre partito un nuovo ciclo trimestrale adesso siamo in una fase, vedete questa conformazione broadening, cioè divergente con minimi decrescenti e massimi crescenti, chiaramente è una conformazione abbastanza disarmante nel senso che non si capisce la direzionalità quando i minimi sono crescenti i minimi decrescenti e massimi decrescenti e lascia spazio a molti dubbi anche dal punto di vista ciclico, vediamo l'analisi ciclica più precisa iniziamo dal ciclo trimestrale, questi sono sempre dati in real time con il software Cycos Navigator che trovate su tradingnavigator.it, il software evoluzionario da me ideato per l'analisi ciclica che è un software che è stato fatto appunto da un esperto in analisi ciclica per chi fa analisi ciclica ai termini sui cicli andate a vedere sul sito, tra l'altro c'è un mese gratuito di prova quindi vedrete che chi sa un po' di analisi ciclica questo è assolutamente per fare di grandissimi passi in avanti rispetto a qualsiasi altro software con indicatori dedicati sull'opera analisi ciclica tornando a noi, se fossero scaduti i tre mesi praticamente sui minimi, diciamo questi qua, del 26-27 di febbraio più o meno sono scaduti i tre mesi considerando anche i giorni di vacanza che ci sono stati a fine dicembre per le vacanze insomma che ci sono state con il 16 quindi novembre andiamo circa a tre mesi quindi i tempi collimerebbero non collimerebbero però le forme cicliche perché le forme cicliche sarebbero molto strane intanto un ciclo che finisce con questi appunto massimi crescenti minimi decrescenti va bene ma questi massimi crescenti associati ai minimi decrescenti è un po' strano è anomalo, chiaramente la borsa è sempre lì per sorprenderci, non è detto che non possa accadere la struttura non è molto chiara perché vedete che questa struttura sembrava divisa in tre sottocicli il primo che terminava il 28 anche sugli altri indici che non è andata così il 28 dicembre comunque fine dicembre il secondo che è terminato a inizio di febbraio il 7 più correttamente di febbraio e qui ci si aspettava un'altra fase ciclica che potesse chiudere entro la prima metà di marzo con un ribasso un po' più dignitoso di questo quindi magari siamo arrivati come livelli intorno a 2.560 almeno 2.500 più o meno come livelli cosa che non è avvenuta adesso siamo lì in una zona limite tra l'altro ci sono state due volte è stato rotto il minimo del 7 di febbraio due volte cioè il 21 di febbraio poi il 26-27 quindi dando continuamente segnali falsi di rotture oddio la prossima onestamente non mi aspetto che sarà una falsa se la romperà un'altra volta non sarà una falso segnale comunque dal punto di vista ciclico rimane un po' più di probabilità per un ribasso che confermerebbe che andiamo alla chiusura del ciclo trimestrale più lungo diversamente chiaramente se andassimo sopra questi massimi cioè falliamo o torniamo a 2007 sarebbe di più probabile invece la lettura di un ciclo trimestrale iniziato sui minimi del 26-27 febbraio detto questo vediamo una strategia coerente in opzioni poi ci sarebbero anche da analizzare i cicli inferiori ma voglio stare snello perché voglio parlare di opzioni a proposito di opzioni tra l'altro vi ricordo che io tengo due corsi sulle opzioni all'anno e il prossimo lo faccio il 16 marzo a Desenzialo del Garda costo 200 euro più IVA poi per i miei abbonati ci sono costi inferiori per chi ha già fatto il corso negli ultimi due anni stante euro più IVA e quindi andate sul mio sito credo che come qualità rapporto qualità prezzo non ci siano non ci siano uguali credo in Italia poi sicuramente c'è gente più brava di me farà pagare di più io credo deve fare un prezzo onestissimo il mio curriculum sulle opzioni non credo sia secondo a molti o forse a nessuno degli altri che fanno corsi comunque andate a vedere e niente torniamo a noi dobbiamo creare una strategia in opzioni facciamone una semplice allora facciamo una strategia ribassista in realtà sarebbe più corretto fare una strategia bidirezionale bidirezionale ovvero che punti uomo rialzo o ribasso ma in questo momento dobbiamo andare a leggere la volatilità scusate la volatilità implicita questi sono dati fino con la chiusura di ieri la volatilità implicita aveva raggiunto a fine gennaio i minimi degli ultimi 5 anni poi ha avuto un sussulto su questo ribasso è andata oltre il 25% cioè la metà la media storica questi sono tutti i grafici sono tutti foglie di lavoro con calcoli da me fatti che do a chi viene al corso li do do molto materiale al corso comunque è andato sopra la media storica quindi un forte segnale di turbolenza che per il momento è negato perché siamo tornati intorno al 20% possiamo anche andare a vedere sul sito di Yahoo Finance gratuito con dati ritardati di 15 minuti il Vistox adesso intorno al 21% è comunque un livello ben più alto dei livelli bassi che avevano raggiunto intorno al 15% però insomma comunque è un livello in discesa teniamo conto che ogni quanto più questa curva è alta tanto più pago le opzioni quindi adesso il prezzo è intorno a un valore medio storico ma per l'ultimo periodo che abbiamo avuto 21% è un valore alto quindi mettersi in tutte e due le direzioni comprando per esempio con le put il famoso strengo stretto in acquisto o lo strengo nell'acquisto è comunque oneroso in questo momento allora punto solo una delle due direzioni dal punto di vista ciclico rimango dell'idea che ha ancora un po' più di probabilità il ribasso sta diminuendo questa probabilità rispetto al rialzo rimane per la struttura cicla che ci possa essere nei prossimi giorni un'accelerazione ribassista magari breve come approfittarne rischiando poco una strategia poi nel corso faccio vedere cose molto più approfondite ve lo spiego meglio è quello di fare il back ratio spread cosa faccio ve l'ho preparato prendo scadenza visto che la marzo la scadenza marzo siamo già a marzo conviene andare sulla scadenza aprile se potrebbe anche fare su marzo non potrebbe farlo sopravvivere per stare più tranquilli vediamo i prezzi in real time prezzi in real time delle put il mercato adesso intorno a 2625 2630 cosa prevede questo prevede di vendere una put più o meno at the money quindi potrebbe essere la 2650 come la 2006 e con quello che si è acquistato cioè con quello che si è incassato si cerca di utilizzare questi per acquistare due put però ovviamente out of the money vediamolo meglio qua quindi se acquisto la 2650 spendo circa 86 punti che sono 860 euro utilizzo questi punti per ho venduto la 2650 per acquistare due put due put 2550 potrei anche fare l'importante che quello che in caso 86 venga utilizzato più o meno proporzionalmente con quello che devo spendere quindi più o meno ho una spesa di 6 punti cioè sono 60 euro quindi va bene questa strategia è il put ratio back spread vediamo la sua conformazione prima della scadenza perché a scadenza questa conformazione qui che è poco chiara prima della scadenza però fa queste curve vedete queste curve queste curve qui cosa vuol dire vuol dire le curve più alte sono i giorni più vicino man mano che passano i giorni c'è il decadimento temporale quindi queste curve si abbassano però vedete che se il mercato ha un'accelerazione ribassista io inizio a guadagnare deve andare ben sotto il 2006 deve guadagnare ma perché ho fatto vedere quella ribassista perché il mercato qua se ci ricordiamo la volatilità implicita sui ribassi il mercato aumenta la volatilità vedete il ribasso aumenta la volatilità il ribasso aumenta la volatilità anche l'ultimo ribasso di febbraio la volatilità da inizio febbraio fino al massimo del 26 è salita volatilità che sale vuol dire che la mia strategia guadagnare di più guadagnare di più chi conosce è più afferrato su queste cose praticamente sarebbe il vega che è un vega positivo ma al di là di questo ve lo faccio vedere su un grafico vedete queste sono le curve che invece che salgono le curve di pay off cioè di guadagno salgono all'aumentare della volatilità vedete che se la volatilità cresce queste curve salgono quindi non solo il guadagno perché il prezzo scende ma perché la volatilità spinge verso l'alto spinge verso l'alto queste curve quindi spingendole verso l'alto le porta a un maggior utile a un maggior utile scusate qua le porta a un maggior utile che appunto succede sul ribasso cos'è che si rischia? beh certo che si rischia si rischia sia scadenza ma queste non sono operazioni che portano fino alla scadenza il mercato è ingessato tra 2650 2450 a 2550 la massima perdita tra 2650 vicino a 2650 e 2450 quasi niente in mezzo c'è tutto il limbo però è un'operazione che non porta a scadenza soprattutto vedete la cosa interessante se io sbaglio il mercato sale non perdo praticamente niente a parte i 6 punti di 60 euro non perdo niente quindi se il mercato parte poi a rialzo se il mercato poi invece sale non perdo niente cioè se mi sbaglio non perdo niente solo se passa il tempo il mercato rimane ingessato da 2450 a 2650 allora perdo ma ripeto è un'operazione più a breve respiro cioè che punta a un movimento entro la prossima settimana entro il prossimo massimo due settimane di accelerazione ribassista se no probabilmente il mercato andrà verso il rialzo e quindi va bene per me più di quello non perdo quindi è interessante la strategia poi al corso faccio vedere meglio queste cose però con l'analisi ciclica queste cose riesco a strategie riesco a modularle a modellarle molto meglio spero di essere stato chiaro capisco per chi non conosce le opzioni non è chiarissimo se poi uno non conosce neanche i cicli è ancora meno chiaro però mettendo insieme le due cose chi un pochettino conosce l'argomento sa che si hanno delle informazioni che altre analisi non ti danno e quella quella strategia che avevo fatto cioè il put ratio back spread ha delle caratteristiche interessanti che altre strategie con le opzioni non vi danno bisogna scegliere il momento giusto di utilizzarle bene vi saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento grazie a tutti